Grazie a tutti. E chiediamo ai nostri genitori stellari, i preadiani, di avvicinarsi, 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 avvicinarsi. Fate che noi possiamo sentire il vostro amore. E chiediamo a questi esseri ascesi che vengono dalle stelle, che identifichiamo con coloro che vengono da Orione, di avvicinarsi, avvicinarsi, avvicinarsi. E chiediamo agli arturiani, gli esseri stellari dai quali noi discendiamo, di avvicinarsi, avvicinarsi, avvicinarsi. E permettete di farci sentire il vostro amore. E chiediamo a coloro che vengono da Sirio di avvicinarsi, di avvicinarsi, di avvicinarsi, di avvicinarsi. E fate che possiamo sentire il vostro amore. E con la presenza energetica del nostro lignaggio galattico, diciamo grazie, grazie, grazie per essere qui. Grazie per amarmi e grazie per essere qui, mentre Crayon ci dà questo messaggio. Vi saluto, miei cari, sono Crayon del Servizio Magnetico. E' una gioia comunicare con voi in questo modo, con chi di voi sta ascoltando e crede che forse c'è una voce e che il velo si sta assottigliando e permette a questa voce di raggiungervi come mai prima. In molti state capendo che l'essere umano è come un'antenna, e che c'è molto di più che l'essere umano raccoglie nella sua coscienza, rispetto a ciò che vi è stato insegnato. E' in questo modo che ricevete l'intuizione, e ne abbiamo già parlato proprio in questo programma. Abbiamo parlato della bellezza, dell'intuizione, e che essa proviene dalla vostra coscienza, non dalla mente. E c'è chi dirà, ma la coscienza viene dalla mente. No, non è così. C'è una fusione tra la coscienza e la mente. Il cervello reagisce alle cose che immaginate e pensate, e la coscienza aggiunge al cervello qualcosa che lo aiuta a funzionare. Ma se chiedete a tanti che sono stati dall'altra parte e poi sono tornati in quelle esperienze di premorte, ve lo diranno che quando il cervello smette di funzionare ed è clinicamente morto, la coscienza sembra prendere il controllo e continua a dare informazioni meravigliose. Alcuni si sono avvicinati tanto all'altro lato, dove la coscienza stava quasi per esplodere nell'energia dell'anima, e poi sono tornati indietro. La vostra coscienza la chiamerò coscienza dell'anima, ed è alleata al corpo. Ora sto parlando di questo come semplice promemoria. Ed è da un po' di tempo che non parliamo del vostro DNA, non di tutto il DNA nel suo insieme. Ora ricapitoliamo quello che l'umanità adesso comprende, in poche parole e non in termini scientifici o medici, ma semplicemente in sintesi e in modo generale. Quello che la cultura di oggi, della Terra, conosce sul DNA. Quando è stato scoperto il genoma umano, all'inizio ci fu la realizzazione che era come vedere galassie all'interno di galassie. C'era così tanto lì. E si pensava che ci avrebbero messo una vita a rivelare tutto quello che c'era lì. Invece no. Hanno utilizzato metodi intelligenti per vedere il DNA e identificare cosa ci fosse lì. Hanno trovato un sacco di ripetizioni e poi hanno potuto vedere qual era il prodotto di queste ripetizioni. E questo ha fornito un quadro magnifico su ciò che è il DNA. La cosa stupefacente del vostro DNA è che scoprirono più di 3 miliardi di sostanze chimiche. 3 miliardi di sostanze chimiche attaccate al DNA in maniera ordinata, con funzioni sconosciute. Però almeno ne hanno scoperto la chimica e il modello. Videro e rivelarono la doppia elica, come era fatta. E poi videro le combinazioni. Videro quello che avrebbe potuto fare, ma non sapevano cosa faceva. Tutto questo è stato spiegato dai risultati del progetto Genoma Umano. Quando dissero, abbiamo rivelato la chimica del DNA, più di 3 milioni di parti, ma sappiamo solamente quello che è in grado di fare, circa il 3% di esso. Dissero che la codifica di questo 3% era ovvia. Era la porzione di geni che produce delle cose. Quindi si è subito vista la funzione del DNA, che è quella di essere un pannello di controllo. Contiene le istruzioni che crea ciò che siete e permette di continuare a farlo. Una delle cose che hanno scoperto subito è che il vostro DNA produce più di 27.000 geni che avete nel vostro corpo. Questi geni vengono continuamente prodotti per essere utilizzati nel momento giusto per la cosa appropriata. Il vostro DNA non sta semplicemente lì dalla vostra nascita. È sempre attivo, è sempre operativo. Fa delle cose e il 3% di esso è stato identificato. E per quanto riguarda il resto, che è la stragrande maggioranza di tutto il DNA, dissero che non ne avevano idea. Non sono riusciti a individuare nessun codice. E questo è molto interessante, perché se voi foste uno scienziato molto intelligente che non riesce a capire qualcosa, cosa direste? Direste, beh, non siamo ancora riusciti a decifrare i codici, un giorno ci riusciremo. Ma invece, quasi universalmente, hanno alzato le mani e detto, è spazzatura. È probabilmente un residuo dei processi di evoluzione. Questo è interessante per me. Quando non riuscite a capire qualcosa, diventa spazzatura. Facciamo un piccolo esercizio, un esercizio di fantasia e divertente. Siete nel 1800 e compare un viaggiatore del tempo e dice, «Ciao». Ma è ovvio che abbia sbagliato tempo. Infatti prende il suo libretto con le prenotazioni, da cui ne fuoriesce una pagina che cade a terra. E poi lui scompare nuovamente. E a terra, dopo che se n'è andato, voi trovate questo foglio che ha lasciato. Lo guardate e dite, «Questo è ridicolo, è stupido». Sul foglio c'è un codice QR. Voi sapete cos'è un codice QR. È il codice che inquadrate con il vostro smartphone per vedere il menu al ristorante, per esempio. Non è così profondo, forse. Ma se vi trovaste nel 1800 e vedeste questo accadere con i vostri occhi, forse direste, «È comparso un angelo, un essere dal futuro, e ci ha lasciato un messaggio». Avete visto il QR code? Da dove incominciate a decifrarlo senza avere alcuna idea e senza le cinque o sei invenzioni che sono necessarie per creare questo codice, capirlo, tradurlo, compreso il dispositivo che serve per interpretarlo, che è lo smartphone, e lo fa grazie all'intelligenza artificiale. Secondo voi, chi avrebbe mai potuto decifrare questo codice nel 1800? La risposta è probabilmente nessuno nel mondo, perché non avevano ancora accesso a quelle cose non ancora scoperte, inventate o capite. A me piacerebbe far finta che potessero capirlo, solo perché è divertente. Riescono a decifrarlo e dicono, «Oh cielo, quelli del futuro ci hanno lasciato il menù per il ristorante di Sam!» Cosa significherà questo? Vedete qual è il punto? Quel DNA era diventato spazzatura perché non riuscivate a comprenderlo, ma per fortuna nel 2012 ci sono riusciti. Forse non lo sapevate, ma non esiste più qualcosa come il DNA spazzatura, perché hanno capito quello che fa oltre il 90% di DNA. Carissimi, esso non produce nulla, ma è il manuale di istruzioni per tutto il resto. Hanno trovato che lì ci sono parti ed elementi di un linguaggio, e chi ha aiutato di più a decifrare questo codice e a comprenderlo sono i linguisti che hanno dimostrato che doveva trattarsi di un linguaggio. Quindi adesso questa parte del DNA viene vista come una biblioteca piena di libri, di istruzioni. Ed è qui che voglio dire qualcosa di cui forse ora siete consapevoli. in quel luogo è rivelato se poteste leggere quelle istruzioni, ma ora non ci riuscite, avete appena compreso cosa potrebbe essere, ma quando incomincerete a decifrare quei codici, mi domando se lo pubblicheranno, perché parleranno della vostra cash, quello che avete vissuto in altre vite. Ci sono le emozioni su cui state lavorando ora in quei codici, ma la cosa più grande di cui vi parlerà è quella ventiquattressima coppia di cromosomi che vi è stata donata dalle stelle. Sarà ben visibile e identificabile quando saprete il significato dei codici e questo un giorno arriverà. Cari miei, questa sarà la prova di tutte le cose incredibili che vi ho detto da tanto tempo. C'è molto di più nell'essere umano della biologia. C'è un lignaggio che appartiene alle stelle ed è bellissimo e questo lignaggio sta iniziando ad aprirsi. Questa ventiquattressima coppia di cromosomi è una capsula temporale che inizia ad aprirsi e vi porterà a ricordare quello che vi hanno donato una saggezza profonda, la conoscenza delle cose in arrivo, la comprensione del perché siete qui e quella sensazione di pace che ora magari non avete. Questo è solo l'inizio. Prevedo che un giorno saranno in grado di leggere quel codice ma ora è come un codice QR nel 1800 ma quando saranno in grado di farlo ci saranno rivelazioni e dovranno pensarci molto bene prima di divulgarle ma penso che sarete pronti. Questa era un'altra canalizzazione per mostrarvi la vostra magnificenza, chi siete e chi potete diventare. Congratulazioni per essere arrivati a questo punto nella luce e così è. Grazie a tutti.